Ciao Alessandro. Per anni sei riuscito a superare esami senza fatica. Lo studio per te era una perdita di tempo che preferivi fossero gli altri a subire. La tua preziosa giornata non poteva comprendere un tale spreco. Hai riempito i tuoi pomeriggi con passatempi più rettiti. Per questo, spinto altre persone a seguirti. Distruggendo fuori le loro vite. Oppure, i cimentavi nel basket, come danno tentativo di tenersi in forma, cercando di emulare i veri sportivi. Questa era solo la superficie. Non sei costante. Ed essersi tagliato i capelli non sarà sufficiente. Passi le tue notti negli studi di registrazione suonando in un gruppo che potrebbe tranquillamente fare a meno di te. Strutti le loro doti per coprirti di una celebrità che non meriti. Avevi la macchina disponibile. Ma certo era troppo faticoso alzarsi di buon'ora, con i 5 euro spesi la notte prima da Mastrella. Sai scusarti bene con te stesso, promettendo ogni volta una sorta di crudele ritorfione verso la nobile razza felina, dimostrando poco rispetto verso loro. È giunto il momento di fare un gioco. Alla tua sinistra c'è ciò che ti serve per mantenere le promesse fatte. Mentre alla tua destra hai quello di cui hai bisogno per redimerti, ti sarà necessario un piccolo tributo verso i simpatici animali da compagnia. Mandare un gatto o sentirti fate la scelta. Ciao Alessandro.